Come da tradizione, si è tenuta ieri la cerimonia del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori al Superstudio Maxi di Milano. Il Napoli campione d'Italia ha dominato la scena, con ben quattro premi individuali su cinque vinti dagli azzurri. Miglior società dell'anno, miglior allenatore dell'anno a Luciano Spalletti, miglior giocatore dell'anno a Victor Rosimène e miglior gol dell'anno a Kviciak Varaschelia. In più, nella top 11 della Serie A, oltre ai già citati, sono presenti il capitano Giovanni Di Lorenzo, il coreano Kim Ye, ora in forza al Bayern Monaco, e Stanislav Lobotka. Completano l'11 Mike Magnan, Theo Hernandez e Rafa Leao del Milan, e gli interisti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Akan Cialanoglu. Gli altri premi individuali del calcio maschile se li sono aggiudicati Giovanni Fabian come miglior giovane dell'anno della Serie B e Daniele Orsato in qualità di miglior arbitro. All'ex Juve Gianluigi Buffon, il premio speciale Legend. Sul palco, bel siparietto tra Luciano Spalletti, ora CT della Nazionale Italiana, e il presidente Aurelio De Laurentiis. «È stato un momento indimenticabile, atteso dai napoletani per 33 anni. Devo ringraziare di aver incontrato, dopo un lungo corteggiamento, un grandissimo allenatore. È stato un bel matrimonio», ha dichiarato il patron azzurro. «Spalletti ringrazia. Il presidente è bravissimo a motivare gli altri. Quando sono arrivato, mi ha detto che lui secondo era già arrivato. A Napoli non vai per aspettare la fine del mese. Vai lì per cercare di vincere. Non hai alternative. Porterò sempre con me l'amore per questa città e per i suoi abitanti e tifosi». Grazie. Grazie.